Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Lo abbiamo capito subito, fin da quando è cominciata, tre mesi fa, che questa guerra terribile in Ucraina avrebbe avuto conseguenze nefaste su tutto il mondo. E infatti con ogni giorno nuovo aumentano gli allarmi, gli allarmi per il rischio di carenza di grano, addirittura il rischio della carestia. Che cosa significa tutto questo? Che cosa comporta? Proveremo a metterlo in luce oggi in questa puntata. E allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, parto subito e collegato con noi da Roberto Sensi, responsabile del programma diseguaglianze sociale di ActionAid. Sensi, benvenuto a Siamo Noi. Buonasera, grazie. Allora Sensi, quando si parla, si prova a parlare di diseguaglianze, immediatamente scatta il pregiudizio di avere a che fare con un tema astratto. Invece non è un caso che ci sia proprio in questi giorni, si stia svolgendo a Davos, in Svizzera, il World Economic Forum, cui ha preso parte, è intervenuto ieri anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Beh, questo tema in realtà è un tema incandescente, perché è evidente che dopo la pandemia le diseguaglianze si sono accresciute e che la guerra avrà ricadute ancora più pesanti. Ci fa capire perché, Sensi? Sì, assolutamente. Credo che parlare di cibo e di prodotti agricoli sia un modo per capire meglio come pandemia, quindi crisi sociali, crisi sanitarie, conflitti, poi impattano sulla vita delle persone e colpiscono maggiormente quelle popolazioni, quelle persone che già vivono in condizioni di povertà e soffrono di diseguaglianze, di profonde diseguaglianze sociali. Il conflitto attualmente in Ucraina è un acceleratore, un amplificatore di una crisi alimentare a livello globale che in realtà è in corso da diversi anni, soprattutto a causa di due fattori che incidono tantissimo nell'approfondire le diseguaglianze sociali e economiche, che sono i conflitti che ci sono in molti altri paesi e gli effetti dei cambiamenti climatici che impattano in particolare appunto i paesi africani. Sensi, poi andremo sempre più nello specifico e capiremo perché tutto questo ci riguarda molto da vicino. Nel frattempo voglio subito dire che c'è tanto che possiamo fare per sostenere anche l'impegno, l'operato, vorrei dire, di Action Aid nel mondo, avremo modo di approfondirlo, però nel frattempo vi chiedo di appuntarvi subito questo numero, un numero verde, 800-132-834, poi Sensi ci farà meglio comprendere come possiamo utilizzarlo. Mentre adesso, come sapete, lo facciamo sempre nella prima parte del nostro programma, vogliamo andare in Ucraina e vogliamo andare a ritrovare il nostro inviato Vito del Torre che si trova in un luogo in cui davvero l'umanità ha subito, sta subendo ferite profondissime. Vito, a te. Buon pomeriggio Gabriella, buon pomeriggio a tutti i telespettatori, hai detto bene, un luogo dove non c'è umanità, l'umanità in qualche modo si è fermata, non so come descrivere proprio l'atrocità di quello che abbiamo visto, ci proviamo con questo collegamento, innanzitutto vi diciamo che noi siamo a pochi chilometri da Kiev, ci siamo messi di fronte a questo ponte distrutto, è un ponte, come dire, emblematico perché alla nostra sinistra c'è Buccia, luogo dove i russi hanno commesso delle nefandezze enormi, alla nostra destra invece c'è Kiev che è poco distante, pochi chilometri da qui, le forze russe sono arrivate fino a Buccia e la resistenza ucraina ha buttato giù questo viadotto, questo ponte proprio per impedire, per rallentare l'avanzata, ed è quello che fortunatamente è accaduto, cioè i russi non sono riusciti ad entrare all'interno della capitale ucraina. Oggi insieme all'operatore Daniele Di Francesco siamo entrati prima ad Irpin e poi a Buccia, che cosa abbiamo visto? Cose che, Gabriella, abbiamo studiato sui libri di storia e rivederli qui nel 2022 fa davvero impressione. C'era una fossa comune vicino ad una chiesa ortodossa dove sono stati ammassati centinaia di corpi, fortunatamente nelle ultime settimane questi cadaveri sono stati riassumati e hanno ricevuto degna sepoltura, ma il problema è che molti di questi corpi senza vita non hanno un'identità perché sono stati bruciati. Buccia e Irpin sono dei villaggi sostanzialmente fantasma, non c'è pochissimi abitanti in questo momento. Da quello che abbiamo visto, i russi hanno messo in piedi, forse uso una parola grossa, ma non ne trovo altre per raccontare quello che abbiamo visto, un'opera di terrorismo perché bombardare farmacie, centri commerciali, scuole, non trovo altre parole. C'è un centro commerciale proprio a Buccia dove all'interno di questo centro commerciale molto grande non c'è nulla, non c'è assolutamente, totalmente vuoto. I russi prima l'hanno saccheggiato e poi l'hanno bombardato e dato alle fiamme. Questo dà un po' l'idea di quello che è accaduto a Buccia. Abbiamo incontrato persone che ci hanno detto che in quei giorni dell'occupazione russa era vietato rimuovere i cadaveri dalle strade. Non c'era acqua, non c'era gas, non c'era luce, non c'era internet, anche gli animali erano affamati e qualcuno di questi animali ha mangiato, si è nutrito con i corpi lasciati sul ciglio della strada. Questo era Buccia. L'immagine che più ci ha colpito è una signora anziana che cercava di piantare oggi dei fiori come segno di speranza perché qui, come tutti, ci auguriamo che torni la vita. Certo non sarà semplice rimarginare le ferite non soltanto fisiche ma anche morali perché vedere una scuola totalmente rasa al suolo fa veramente impressioni. Palazzi abitati da civili bombardati ma anche nei piccoli villaggi su dieci case una è stata bombardata e l'altra no, quindi dà proprio la sensazione e l'impressione di missili lanciati a casaccio semplicemente per spaventare, per terrorizzare la popolazione e farla scappare via. Poco lontano di qui c'è un seminario cattolico a Vorozel. Siamo entrati in questo seminario, oggi deserto, c'è soltanto il rettore che è rimasto veramente come il capitano di una nave che non abbandona la nave, è solo. Anche quel seminario è stato bombardato. I russi sono entrati nel seminario, hanno distrutto le porte, le hanno sfondate, hanno rubato tutto quello che potevano rubare anche i piatti, le stoviglie, le pentole, hanno rubato tutte le aspirapolveri, hanno rubato le lavatrici veramente scene, hanno saccheggiato tutto quello che potevano. Io non so se il termine giuridico corretto sia crimini di guerra ma certo è una lesione ai valori dell'uomo ai valori fondamentali perché non si va oltre quello che è un conflitto. Qui si va proprio all'umiliazione, al tentativo di umiliazione di un popolo. Questo è quello a cui noi abbiamo visto. E questo ponte, dicevo, è l'emblema della resistenza ucraina perché da questo ponte non sono passati i russi. Qui i russi non sono passati e oggi il governo ucraina sta cercando di ricostruirlo. Bisogna innanzitutto rimuovere le macerie per consentire che Buccia riprenda vita, Irpin riprenda vita. Questo è un po' il nostro racconto oggi che faremo anche nel telegiornale. e il racconto è reso possibile attraverso le immagini dolorose girate dal collega Daniele Di Francesco. Io ti ringrazio, ringrazio, ringrazio Vito Dettore, ringrazio l'operatore Daniele Di Francesco che più volte ha nominato e grazie al quale abbiamo catturato queste immagini che rendono perfettamente l'idea che questa è la guerra, che altro si può dire. e Buccia è il luogo dove effettivamente l'umanità è sconfitta. Ma la guerra purtroppo è molto altro ancora. La guerra produce un effetto domino che coinvolge sempre più paesi anche a chilometri di distanza. Allora questo ve lo racconteremo. Adesso andiamo in pubblicità. Sugli schermi vedrete tra pochissimo anche si sta preparando nel backstage del nostro studio la prossima ospite è in un cono d'ombra che ha anche lei tanto da raccontarci. Quindi ci vediamo tra qualche istante. Ben rientrati in studio. Siamo noi in questo momento a causa della guerra che ormai è entrata nel suo quarto mese. Sono tre mesi di guerra a causa dei bombardamenti russi, del blocco navale sul Mar Nero. Ci sono milioni di tonnellate di cereali che sono bloccate nei porti ucraini. In primis ad Odessa rischiano di marcire. E tutto questo veramente avrà serie conseguenze. Allora noi oggi vogliamo mettere sotto la nostra lente di ingrandimento intanto l'effetto domino provocato da questa nuova guerra in corso alle porte dell'Europa ma anche vogliamo seguire, raccontarvi il lavoro preziosissimo degli operatori di Action Aid in zone del nostro mondo, del pianeta, le cui popolazioni hanno avuto le vite devastate dalla guerra non da mesi ma da anni e adesso soffrono le conseguenze di questo nuovo conflitto che non le riguarda, che è a chilometri di distanza e che è in Europa. Allora ci ha raggiunto, l'avevate vista nel backstage, Barbara Antonelli, bentornata, responsabile del Dipartimento Comunicazione Action Aid Italia. Barbara, bentornata. Buon pomeriggio, onora Gabriele, grazie. Allora Barbara, cominciamo a far capire bene al nostro pubblico di quali paesi parliamo, paesi che sono stati provati veramente da decenni di conflitti interni e che oggi rischiano di trovarsi in situazioni ancora peggiori a causa di questo conflitto in Ucraina. Sì, parliamo di questa regione che è la regione denominata il Corno d'Africa ed è una regione che comprende in particolar modo tre paesi, quindi Kenya, Etiopia e Somalia e Somaliland. Ed è una regione estremamente in poverità che negli ultimi decenni ha sofferto già tantissime siccità, inondazioni e carestie proprio a causa dell'impatto del cambiamento climatico. Oggi queste popolazioni si trovano ancora di nuovo impoverite. Pensiamo di arrivare al supermercato e di trovare che un pacco di farina, di grano, costa invece che un euro, due euro. Ecco, il prezzo dei cereali del grano è raddoppiato. Un litro di acqua invece che un dollaro costa cinque dollari. Quindi questo ha un impatto gravissimo su tutte le popolazioni, in particolar modo ovviamente sui bambini. I tassi di malnutrizione e denutrizione infantile sono raddoppiati ed è una situazione drammatica che si sta nuovamente acuendo proprio giorno dopo giorno a causa dell'impatto della guerra in Ucraina. Sensi, Roberto Sensi, io leggevo oggi che in Libano per esempio il prezzo del pane, paese che Barbara Antonelli conosce molto bene e addirittura è aumentato del 70%, l'alimento base. Questo mi viene in mente perché vorrei che lei ci aiutasse a comprendere di che cosa parliamo quando parliamo di rischio di povertà alimentare che insomma confina con poi la possibilità della carestia. e anche quanto tutto questo già sta provocando instabilità sociali, sommosse, instabilità politiche? Sì, allora dobbiamo considerare che i sistemi alimentari dei paesi più poveri dipendono enormemente dall'importazione di cereali, di grano, frumento, proprio dai principali paesi che sono in grado di esportare questi prodotti. L'Ucraina e la Russia sono tra i principali, esportano circa il 30% di tutto quello che viene commerciato a livello globale in termini di cereali, frumento e anche altri prodotti agricoli. Ecco, dipendere da queste importazioni perché per condizioni interne, sia ambientali, sia sociali ed economiche, non si è in grado di produrre il cibo di cui abbiamo bisogno porta in qualche modo questi paesi ad essere esposti e dipendenti dall'instabilità che si verifica in altri contesti. E si dice che questi paesi più poveri, le città del Libano, l'Egitto, tutti i paesi del corno d'Africa, ma anche i paesi dell'Africa centrale, importano moltissimo cibo e quindi importano l'aumento di quella che viene definita la bolletta alimentare, ovvero un aumento del costo delle importazioni dovuto appunto a ragioni che, come lei diceva, non hanno niente a che vedere, diciamo dal punto di vista contingente, con motivi interni a quei paesi, ma semplicemente perché appunto si va sul supermercato mondiale e lì il prezzo del grano è raddoppiato. Ecco, davanti a questa situazione drammatica che stiamo descrivendo, ActionAid ha deciso proprio in queste settimane di rilanciare il suo appello per l'adozione a distanza. Allora, 800, 132, 834 è il numero gratuito verde che tutti noi possiamo fare per avere informazioni, informazioni su questa modalità di sostegno e per aderire. E allora io vorrei che Simone subito ci desse i contatti per consentirvi, come spesso, quasi sempre fate, di accogliere questo invito alla solidarietà. Simone. Beh Gabriele, allora, prima di darvi i contatti, vorrei darvi qualche informazione in più proprio su ActionAid. Allora, stiamo parlando di un'organizzazione internazionale indipendente presente in oltre 45 paesi, è già questo, ma da oltre 50 anni agisce contro la povertà, l'ingiustizia, insieme anche alle comunità più povere. I progetti sono in gran parte finanziati dall'adozione a distanza e pensate, con solo 82 centesimi al giorno i bambini accedono a cibo, acqua potabile, istruzione di qualità. Ma cosa vuol dire tutto questo? Che le comunità alla fine diventano più resilienti, chiamiamola così, alle crisi causate dalle guerre, ma anche dalle carestie, dai cambiamenti climatici. Ecco, tutto questo chiaramente ha una grande rilevanza, ma adesso la parola passa a voi. Se siete sostenitori o se vorreste diventarlo, mi raccomando, fatevi sentire 348-3070-345. Questo è il nostro numero, potete scriverci su WhatsApp e partecipare attivamente alla diretta, anche sui nostri social che sono sempre attivi. Insomma, la parola passa a voi e a Gabriella. Grazie Simona, direi che la parola passa a chi sta vivendo questa situazione drammatica in prima persona. Vorrei portarvi dove tutto questo sta accadendo per raccogliere delle voci di donne, donne che quotidianamente si confrontano con problemi che noi, abitanti di città, in paesi industrializzati, difficilmente riusciamo a immaginare. E invece queste, in tante, tantissime, sempre più zone del nostro mondo, questi problemi sono la realtà. La nostra vita precedente era buona. Avevo cento capi di bestiame e producevo il latte per nutrire i bambini o venderlo per comprare altro cibo al mercato. Avevamo una vita prospera. Ora tutto il nostro bestiame è morto. Ogni madre prova dolore quando i suoi figli mangiano solo una volta al giorno. Io provo dolore ogni giorno. La guerra in Ucraina ha influenzato la nostra vita. Oltre la siccità, ora si è aggiunta anche l'inflazione. I prezzi del cibo e del carburante sono diventati molto alti. Prima, i soldi della vendita di una capra, cioè 60 dollari, erano sufficienti per il cibo del mese successivo. Ma ora, non bastano per due giorni. È la prima volta che in Somaliland sentiamo le conseguenze di una guerra in un altro angolo del mondo. Purtroppo, in Somaliland, per il 95% il cibo è importato. Quindi non abbiamo molte opzioni per cambiare le fonti per sfamarci. La siccità ci ha colpito duramente. Non abbiamo acqua. Non possiamo coltivare i campi nelle nostre fattorie. Il carburante è molto caro. E non abbiamo soldi. Le mucche si sono ammalate. Non abbiamo abbastanza cibo da mangiare. E soldi per comprare qualcosa. La siccità e la crisi ci stanno portando allo stremo. Barbara, tu in Somalia ci sei stata e quindi hai osservato, hai visto sul campo. Che cosa sta facendo Action Aid per queste donne, per quello che ci è stato raccontato? Io sono stata, come hai ricordato, nel 2019 e quindi ho visto una situazione drammatica. Action Aid lì sta veramente accanto alle comunità. Rende le comunità più resilienti. Il che significa veramente provvedere ai passi per i bambini. E questo ovviamente lo facciamo attraverso i progetti di sostegno a distanza. E anche rafforzare le comunità in termini di donne. Noi pensiamo che l'impatto della crisi in Ucraina e dell'impatto del cibo ha un'enorme conseguenza sulla vita delle donne. Perché alcune volte? Che cosa accade? Che per avere un'entrata economica si dà alla propria figlia in sposa per avere una dote. Quindi c'è un grandissimo aumento. Quindi il fenomeno delle spose bambine si incrementa a oltre misura. Il fenomeno dei matrimoni forzati, un aumento anche della violenza domestica. Quindi i programmi, i progetti di Action Aid mirano proprio questo, a rafforzare attraverso il sostegno a distanza ovviamente la vita di un bambino o di una bambina, a farla andare a scuola, ad avere un piatto caldo. Un piatto caldo che per noi è una cosa abbastanza quotidiana, normale, come hai ricordato tu. E allo stesso tempo però anche a rafforzare le capacità per essere, come ha detto Simone prima, più resilienti. Quindi più forti davanti agli shock del mercato globale, alle guerre, alle carestie, alle siccità. Quindi lo avete capito veramente. È tanto quello che possiamo fare. Possiamo aiutare Action Aid, aiutare Action Aid ad aiutare queste donne, i loro figli, le comunità. E lo possiamo fare prendendo una decisione importante con un gesto molto semplice che è quello di comporre il numero verde che vedete sullo schermo 800-132-834 per dare la nostra disponibilità a sottoscrivere proprio un'adozione a distanza. Allora noi adesso andiamo in pubblicità, però restate con noi perché tra poco vogliamo presentarvi una signora che vive ad Asti e che con suo marito ha scelto diverso tempo fa di sostenere Action Aid e ci dirà, ci farà veramente capire che cosa significa, che cosa si prova a sapersi utile e ad essere madri di bambini a distanza, a tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio e voglio chiedervi di fare uno sforzo di immaginazione. Provate a pensare che cosa potete fare e acquistare con 82 centesimi, neppure un giornale, neppure un caffè. E questi 82 centesimi invece fanno una grande differenza per i bambini, per le famiglie, per le comunità che vivono in zone, sono tante, troppe, disagiate del nostro mondo e possono fare tanto grazie all'impegno di Action Aid con il suo programma di adozione a distanza. È un programma a cui noi possiamo partecipare, possiamo aderire, chiamando il numero 800-132-834. E allora facciamo subito un passaggio con il nostro Simone, Simone Lombardo. Eh sì, Gabriella, perché specialmente in questi ultimi minuti stanno arrivando le riflessioni, ma anche le domande dei nostri telespettatori. Ad esempio, vi leggo questa qui di Tiziana. Io aiuto tre realtà che lavorano nell'emergenza umanitaria e da quando lo faccio mi sento meglio. Credo sia importante dare una mano, specialmente in questo particolare periodo storico. Ma arriviamo alla domanda, se siete d'accordo, Gabriella, la farei a Barbara Antonelli. Ci scrive appunto Antonella e ci chiede ma quando si sostiene una famiglia, una comunità, ecco, le famiglie possono interfacciarsi con le comunità oppure c'è Action Aid che comunque fa da tramite? Come funziona? Allora, in genere è Action Aid che ovviamente sceglie quelle sono quelle comunità, quelle famiglie e quei bambini o quelle bambine che hanno più bisogno. Quindi il contatto, la relazione con Action Aid è sempre sempre costante. E ci sono i nostri colleghi, no? Ci sono persone come me che fanno il mio stesso lavoro ma lo fanno appunto nei paesi che abbiamo nominato che sono in costante contatto con i territori e quindi con le comunità. Per cui qualsiasi tipo di segnalazione e anche bisogno o emergenza che nasce dalla comunità o dalla famiglia viene riportata poi ad Action Aid che si attiva in modo magari ancora più vigoroso laddove c'è un'emergenza come quella di cui partiamo oggi. Ok. Ecco, grazie Simone, grazie di questa risposta chiarissima ma nulla di meglio per capire come funziona, come possiamo aderire, che cosa significa tutto questo che interpellare una persona che lo fa da diverso tempo. Ben arrivata Elena Porro, sostenitrice di Action Aid. Buongiorno. Allora Elena, lei e suo marito, suo marito Lorenzo, questa scelta l'avete fatta parecchio tempo fa. Quanti anni fa e in questo tempo quanti bambini avete adottato a distanza e in che paesi? Allora, noi abbiamo iniziato più di vent'anni fa ormai questa avventura dell'adozione a distanza e ad oggi abbiamo tre bambini in tre paesi diversi, abbiamo Jonathan di 12 anni in Kenya, abbiamo Maisa di circa nove anni in Bangladesh e abbiamo Kaikba in Liberia che è già una ragazza già a 16 anni, quindi è già sicuramente più grande. E diciamo che non sono gli ultimi che... sono gli ultimi ma non sono i soli che abbiamo avuto perché nei momenti in cui le comunità in qualche modo raggiungono gli obiettivi che ci sono dati insieme ad Action Aid per fare i progetti che si erano in qualche modo prefissati, diciamo, viene cambiata l'adozione a distanza, si lascia il bambino che in qualche modo è stato il nostro faro rispetto al progetto che è fatto. Che si è incamminato sulla sua strada, nella sua comunità. Esatto, e a quel punto viene fatta una proposta di bambini diversi in altri paesi, negli stessi paesi. Quindi è una scelta che richiede anche una grande generosità perché si guarda sempre avanti. E nel 2015, se non sbaglio, lei e suo marito siete stati in uno dei paesi in cui erano attivi questi programmi di Action Aid, un paese che è stato devastato in Ruanda da una guerra civile terribile e da un genocidio che ha lasciato ferite ovunque. Che cosa è stata questa esperienza? Come ricorda questo viaggio, gli incontri che avete fatto? Allora, noi giriamo tantissimo anche per lavoro, ma questo è stato un viaggio veramente spettacolare. devo dire perché ha dato soprattutto una conferma a quello che già da tanti anni noi avevamo idea degli esiti del lavoro che Action Aid è in grado di fare su questi territori, ma vederlo operativo, vedere anche il modo di lavorare con le comunità locali e con i rappresentanti che Action Aid ha a livello dei singoli paesi. Perché c'è sempre un contatto sul territorio che segue queste comunità, intrattiene i rapporti con le istituzioni di questi paesi e quindi in qualche modo consente di fare progetti veramente calati e utili per queste comunità. Per me è stato un viaggio bellissimo, perché come dice lei, il Ruanda è stato un paese veramente devastato e le donne della mia età erano praticamente quasi tutte vedove, perché avevano avuto chiaramente perso i loro mariti, ma ho visto delle donne così forti e così impegnate nel risollevare queste comunità che davvero mi hanno aperto il cuore rispetto alla possibilità che si ha, anche con poco noi come sostenitori, però davvero di cambiare. Ha visto la speranza, anche dove non immaginava magari di trovarla. E il modo davvero di come si può cambiare con un impegno forte, con un impegno anche seguito, voglio dire, rispetto. A proposito di questo, 20 anni di sostegno sono tanti, perché le nostre vite passano attraverso alti e bassi, uno può perdere la motivazione, l'ispirazione iniziale, invece voi no, siete rimasti costanti nel sostegno di ActionAid a questo progetto. Allora ci deve dire perché, in modo che diventi anche un appello per qualcuno che in questo momento sta considerando una scelta come la vostra. Certo, per noi è iniziata quasi un po' come una decisione di pancia, perché chiaramente ti senti, vuoi far qualcosa e non sai come farlo, per cui abbiamo preso informazione, abbiamo trovato ActionAid come associazione e perché per 20 anni, perché io avrei potuto anche lasciarla dopo un po', se non trovavo delle risposte rispetto a quello che mi ero prefissata. In realtà ho trovato le risposte che mi ero, come dire, alle domande che mi ero fatta, ma anche di più, ecco, rispetto a quello che avevo sicuramente come speranza di poter aiutare. Anche su temi che per me sono fondamentali, i diritti delle donne, lo sappiamo benissimo, abbiamo visto prima, le donne sono, nei momenti di crisi, sicuramente le persone che più hanno, come dire, ulteriori problemi rispetto ad altri, quindi devono subire comunque ulteriormente questi problemi delle crisi. Il tema di lavorare, non, come dire, in modo singolo su singolo bambino, rispetto alle comunità, sui diritti, e non lavorare solo sulle povertà alimentari, l'abbiamo visto prima, ma sulle povertà educative, sulle povertà sanitarie. Insomma, io la riassumo, abbiamo tutto questo entusiasmo in un'espressione, probabilmente si sente, si avverte, si tocca con mano che si può fare la differenza e che non lo si fa da soli, ma lo si fa tutti insieme. Barbara Antonelli, io ho spulciato la tua biografia, un po' mi ricordavo, un po' no, naturalmente, e ho visto che, insomma, il tuo impegno, l'amore per le passioni umanitarie, il lavoro delle ONG, è nato anche come volontaria in un campo di profughi in Libano, sei stata lì due mesi. Posso chiederti, quando si va in una missione, a partire da quella, ma tutte le altre con cui ti confronti, come si torna? Questa è una bellissima domanda. Allora, io torno con due sensazioni ambivalenti. Da una parte, con un grande senso di ingiustizia, perché quello che vediamo quando andiamo in questi paesi è veramente un grave squilibrio e delle gravi disuguaglianze globali, delle disuguaglianze sociali, quindi senti proprio veramente la voglia di attivarti, di fare qualcosa, di prendere un impegno per una giustizia che è collettiva, quindi per un cambiamento delle persone, delle comunità, ma anche collettive. Allo stesso tempo, però, torno anche rinfrancata perché in qualche modo vedo che il pezzettino, come un domino, il pezzettino di quello che fa Elena, di quello che fanno altri sostenitori, è quel lancio del pezzettino del domino che dà una spinta virtuosa a tutto il resto, che innesca il cambiamento. Quindi queste due sensazioni che convivono sempre quando vado nei viaggi. Allora, Roberto, Roberto Sensi, noi siamo partiti dal World Economic Forum di Davos e della lotta alle disuguaglianze globali, lì è stato anche diffuso il rapporto sulle disuguaglianze di Oxfam, che è terribile, fa venire i brividi. Allora, Sensi, qual è la prima azione urgentissima da intraprendere per prendere di petto le disuguaglianze, sradicarle se è possibile? Allora, in primo luogo, in questo momento, soprattutto nel breve periodo, aiutare le persone più esposte, quindi aiutarle attraverso, appunto, azioni di emergenza umanitaria, però oltre all'emergenza bisogna guardare in prospettiva e quindi a quello che sarà lo sviluppo di queste comunità nei prossimi anni. E da questo punto di vista ridurre le disuguaglianze significa universalizzare la protezione sociale, rafforzare i sistemi di welfare di questi paesi. I più poveri, i più esposti, i più fragili hanno diritto a essere protetti. In secondo luogo, rispetto al tema cibo, sicuramente il tema è bisogna rendere i nostri sistemi alimentari più sostenibili, perché sono esposti agli effetti dei cambiamenti climatici, ma sono anche quelli che più inquinano e più fanno e mettono emissioni. E questo è urgente farlo, ce l'ha fatto comprendere molto bene. Noi oggi abbiamo provato anche a ricordare e ricordarci che non è che una crisi, la guerra in Europa cancella tutte le altre, ma che in realtà poi tutte si concatenano. Allora, io, voglio ricordarvi e concludere questa puntata ricordando a mia volta che c'è un bambino che in questo momento probabilmente sta attendendo proprio noi le nostre decisioni. Allora, chiamate l'800-132-834 per adottare un bambino a distanza e dunque aiutarlo, aiutare la sua famiglia, la sua comunità ad uscire dalla povertà e a garantirsi un futuro migliore che non deve essere già scritto per lui. Allora, grazie a tutti voi, grazie che ci avete accompagnato in questa importante riflessione. Noi torniamo puntuali domani alle 15.15 e vi aspettiamo qui. A domani. Grazie a tutti.